Ciao cari amici, questa notte anche una buona parte di questa mattina fino quasi a mezzogiorno i russi hanno svolto un massiccio bombardamento del territorio dell'Ucraina occupato dal regime ucronazista gestito dalla lobby sionista e ovviamente come sempre è importante dire subito all'inizio che in differenza dai bombardamenti che stessi sionisti, stessi ebrei israeliani stanno facendo sul territorio di Gaza e di Libano dove massacrano, macellano un'enorme quantità dei civili, delle persone che non c'entrano niente con la guerra, non c'entrano niente con terrorismo perché fatemi capire che colpe ha un feto che si trova nella pancia della madre che viene uccisa, massacrata dai sionisti, come può essere lui il pericolo per sionisti, per israeliani, per gli ebrei, come che pericolo può questo feto rappresentare per dei personaggi che preferiscono vederlo morto. Io sono sicuro che si tratta semplicemente di una pazza voglia suicida, di un istinto suprematista che nella società dei sionisti, di ebrei sionisti viene diffusa proprio grazie a quelle folle idee che hanno loro sulla propria specialità rispetto alle altre razze. In questo loro non sono diversi dai nazisti, anzi sono peggio dei nazisti e anche dal punto di vista dei massacri che hanno fatto ultimamente dimostrano di superare anche i nazisti nella ferocia e nella brutalità. Comunque, cari amici, se noi mettiamo sulle bilance i due bombardamenti, i due sistemi di bombardamenti che fanno i sionisti e i russi, noi scopriamo che i bombardamenti che fanno i russi sono eseguiti in un tale modo da poter evitare le vittime tra i civili. L'esempio chiaro è proprio il bombardamento di stanotte e anche il bombardamento avvenuto qualche giorno fa. Tra l'altro, qua veramente, quando io ascolto alcuni commentatori che parlano di ciò che sta succedendo in Ucraina, c'è ancora qualcuno che continua a dire ma sì ma i russi sono in difficoltà, l'economia russa non è in grado più di produrre le armi, i russi sono costretti di prendere le armi da Correa del Nord e quindi i russi sono rimasti senza bombe, senza missili. Amici, i russi continuano a produrre una quantità enorme di bombe e di missili e questo si vede anche dalla tipologia di bombardamenti che stanno effettuando. Qualche giorno fa i russi hanno sganciato sul territorio dell'Ucraina un'enorme quantità di bombe e di missili e di droni e c'è stato un bombardamento, cinque ondate, sono stati demoliti tantissimi obiettivi sul territorio dell'Ucraina e sembrava che adesso dopo un bombardamento del genere qualche tempo la Russia ha bisogno per riprendersi perché effettivamente magari hanno finito i missili, magari i magazzini sono stati svotati, niente, sono passati due giorni e i russi hanno ripetuto il bombardamento solo, cari amici, questa volta questo bombardamento che è avvenuto questa notte e anche durante la giornata di oggi, durante la mattinata fino a mezzogiorno di oggi, questo bombardamento è stato ancora più massiccio di quella di due giorni fa. I russi hanno bombardato praticamente il territorio di tutta l'Ucraina. Cari amici, pensate, le bombe russe hanno colpito praticamente tutto il territorio adiacente alla prima linea, quindi Zaporozhye, regione di Kherson, Kharkov, Dnipropetrovsk, Nikolaev, tutte queste zone dove arrivano i sistemi di bombe plananti con il modulo planante UMPK, tutti questi territori sono stati bombardati con le bombe. Poi sono stati usati anche i missili balistici lanciati dalla terra, dal sistema OTRK Iskander-M, ad esempio sul territorio di Nikolaev è stato praticamente distrutto il porto, la struttura portuale, dove si trovava anche un'importante fabbrica che produceva i droni navali. Questa fabbrica è stata costruita e gestita dai britannici. Voi sapete che la Gran Bretagna, un paese che è molto interessato a gestire la Crimea, perché è un impero fallito, un impero che non ha più le macrozone nel mondo, macrozone, ripeto, chi non lo sa, macrozona dal punto di vista geopolitico, è una parte del globo che non ha collegamenti con un impero, con un paese che lo gestisce, che si trova alla distanza, ma viene gestito da questo paese perché l'impero ha creato nella regione delle condizioni che prevedono e permettono l'utilizzo di questo territorio come macrozona. Di solito nelle macrozone vengono posizionati i militari, vengono imposte particolari regole di commercio, regole favorevoli all'impero, quindi se all'inglese è comodo che in Crimea ad esempio viene schierato la loro flotta e il Mar Nero diventa chiuso e chi vuole passare deve pagare dazi particolari, oppure le navi che devono circolare nel Mar Nero dovranno pagare agli inglesi una particolare assicurazione che potranno vendere solo le compagnie inglesi che hanno permesso della corona inglese di farlo, questo luogo si trasforma in una vera e propria macrozona. Questi inglesi vorrebbero fare sul territorio della Crimea e per questo loro continuano a sovvenzionare tutto quello che è legato all'attività antirussa nel Mar Nero. I droni marini come sapete sono molto importanti perché grazie ai droni marini si può attaccare le strutture portuali, si può attaccare le navi, si può attaccare i luoghi che si trovano anche nel mare come ad esempio le piattaforme e gli inglesi li producono in grande quantità sul territorio dell'Ucraina e poi gli ucraini che sono dei cani fedeli della corona, sono degli schiavi degli anglosassoni, con grande felicità utilizzano questi droni contro i russi. I russi hanno deciso questa notte che basta osservare come questi droni vengono prodotti a Nicolae, e loro sapevano benissimo dove si trova la fabbrica, l'hanno demolito completamente. Hanno utilizzato per questo i missili balistici Iskander-M e hanno utilizzato anche i missili lanciati dalla struttura missilistica costiera della Crimea. E poi sono stati utilizzati i missili da crociera Kh-101, tantissimi, lanciati dai bombardieri strategici russi Tu-95 e MS-16, sono stati utilizzati anche i bombardieri Tu-160, bombardieri strategici, ci sono stati utilizzati i bombardieri portamissili ipersonici Kenjal MiG-31K, quindi sul territorio dell'Ucraina oggi veramente ha piavuto di tutto. E anche ovviamente droni, droni Geran-2 e anche droni Gerbera. Bisogna dire che droni Gerbera e russi hanno utilizzato soprattutto all'inizio, all'inizio del bombardamento che è iniziato a mezzanotte passata, loro, i russi hanno lanciato prima una grande ondata dei droni, questi droni hanno funzionato come le esche, la gran parte di questi droni non avevano testate esplosive, loro semplicemente erano pieni di carburante e facevano dei giri attorno ai luoghi dove i russi sapevano che si trovano i sistemi di antiaerea ucraina. Quando l'antiaerea ucraina è stata sovraccarica, quando non riuscivano a più a rilevare gli obiettivi nel cielo, hanno provato a lanciare qualche missile, i missili ci sono pochi adesso perché gli occidentali hanno mandato all'Ucraina i missili per resistere fino a dicembre e tutti questi missili sono già finiti questa notte perché i russi hanno sovraccaricato la struttura antiaerea. Dopo questo, quando i russi hanno liberato lo spazio, quando l'antiaerea ormai non riusciva più a funzionare, hanno cominciato a lanciare attacchi missilistici. E cari amici, è arrivato veramente, stanotte è arrivato su tutto il territorio dell'Ucraina. Veramente non c'è un luogo dove non è caduto un missile. I russi hanno bombardato soprattutto le infrastrutture di energia critica e per questo dico, prima vi dicevo che i bombardamenti dei russi sono diversi dai bombardamenti degli israeliani. Per quale motivo? I russi non colpiscono le strutture civili, non colpiscono i cittadini. Il bombardamento di oggi, che dal punto di vista di utilizzo di missili, bombe e droni è stato uno dei più potenti degli ultimi tempi, non è morta neanche una persona. Oggi, stessi ucraini lo ammettono, Oggi il capo della difesa antiaerea ucraina, quando ha parlato di questa cosa, ha affermato che non ci sono state vittime tra i civili. Stesso Zelensky lo ha affermato. Zelensky ovviamente ha raccontato che ucraini hanno abbattuto praticamente tutti i missili, ma lui di solito sempre racconta queste balle. Tra l'altro raccontano balle senza mettersi d'accordo con loro, tra di loro, perché il capo della difesa antiaerea ucraina non ha parlato del fatto di aver abbattuto dei missili e dei droni. Lui ha parlato semplicemente che c'è stato un grande bombardamento, un bombardamento durato fino a mezzogiorno, durato tutta la notte, i russi hanno bombardato da diverse direzioni, è stato bombardato il territorio di tutta l'Ucraina, lui ha detto che l'antiaerea era sovraccarica e ha spiegato che non ci sono state le vittime tra i civili. Mentre poi dopo ha fatto la dichiarazione il ministro dell'energia ucraino, il ministro dell'energia ha detto noi abbiamo un sistema di energia per 80% demolito, noi non abbiamo più possibilità di fornire energia elettrica e anche l'acqua calda e il riscaldamento in tante parti del nostro paese. Nella città di Odessa, a Kiev e in altri luoghi questi servizi sono stati sospesi, però lui non ha detto del fatto che l'antiaerea Ucraina ha abbattuto quasi tutti i droni, tutti i missili russi. Arriva questo tossicodipendente scaduto, questo schifoso sionista nazista, Zelensky, cosa fa? Racconta che dopo che due suoi funzionari hanno detto che Ucraina ha capo demolito e tutto quanto, arriva lui e dice ma in realtà abbiamo abbattuto quasi tutti i missili russi, ma cavolo, uno si domanda se avete abbattuto tutti i missili russi, da dove arriva tutto questo disastro allora? Come mai il vostro paese si trova adesso in una situazione così grave che sono stati sospesi fornimenti di acqua calda, di riscaldamento, di energia elettrica, alcune città sono stati completamente isolati perché non si sa cosa succede lì. Arrivano da tutta l'Ucraina immagini, io ho pubblicato tutto stamattina, io ho pubblicato sul mio canale privato Telegram, foto e video di esplosioni, di fumo, di distruzioni, di diciamo tutte le conferme della distruzione dell'infrastruttura. l'unico che ha abbattuto tutto è Zelensky, questo vive nel suo mondo veramente fattato, questo si è inventato una realtà dalla quale non vuole uscire poi per, diciamo, rimanere più saldo all'interno ovviamente usa la droga e poi alla fine dà queste notizie, queste analisi che sono veramente ridicoli. Comunque i russi oggi hanno anche bombardato una zona interessante perché mentre avveniva il bombardamento di diverse strutture sul territorio di tutta l'Ucraina ci sono state ancora le zone dove i russi non hanno mai colpito nessuna struttura. Una di queste zone è stata una zona turistica, Ucraina, che si chiama Bukavell e in questa zona ci sono attività sciistiche, si tratta di montagna, si tratta di Carpazzi, quindi una bella zona dove i turisti ucraini, i ricchi ucraini, quelli che hanno rubato i soldi alle occidentali, vanno a sperperare questo denaro, vanno a divertirsi. là ci sono alberghi, ci sono attività sciistiche e così via. Proprio in questa città di Bukavell si trovava un centro di comando della NATO. L'hanno messo lì evidentemente perché si trova in una zona dove non c'è niente legato all'esercito, dove ci sono solo i turisti e loro credevano che i russi non scopreranno mai questa cosa. Evidentemente i russi hanno scoperto la situazione attorno a questo luogo. Probabilmente qualche informatore, qualcuno che lavorava con servizi russi, io adesso non lo so perché i russi non lo dicono, ma noi possiamo solo ipotizzare. Può darsi che qualche partigiano, qualche persona sul territorio dell'Ucraina stanca di questo regime, che non vede l'ora di tornare a casa, tornare alla Russia, collabora con i russi, ha informato che a Bukavell, in uno degli alberghi, in una delle società alberghiere, è stata organizzata questa struttura militare. Loro si occupavano di preparazione dei programmi di volo per i missili, loro si occupavano di monitoraggio della situazione in prima linea, poi lì lavoravano soprattutto con l'informazione, quindi un vero e proprio punto di comando, dove lavoravano i militari della Nato. è stato demolito completamente questa notte. I russi hanno lanciato contro questa struttura i missili personici Kenjal, quindi potete immaginare che cosa è rimasto lì. Gli ucraini ovviamente non fanno vedere, però ci sono stati alcuni testimoni oculari che hanno mandato le foto, i video, di come si alza il fumo, di come brucia questa struttura, quindi è la prima volta da tutto tempo di conflitto in Ucraina che viene colpita una struttura nella città di Bukkavelli. Potete immaginare il volume di fuoco che oggi è stato scatenato contro il regime ucronazista. in pratica bruciava tutto, tutta l'Ucraina. Kiev, 10, Rivne, Mukacheva, Pavlagrad e così via. E adesso la gran parte dell'Ucraina, come vi ho detto, non ha più rifornimento di energia elettrica, in molte regioni manca l'acqua potabile, non c'è riscaldamento, insomma ci sono gravi problemi e già il ministro dell'energia dell'Ucraina ha detto che in alcune zone questi problemi saranno permanenti perché non c'è possibilità di ripristinare il funzionamento delle strutture danneggiate. così ad esempio è arrivato oggi è arrivato un video da Krivoirog dove è stata colpita una stazione elettrica locale e lì già hanno detto che a Krivoirog questa stazione non può essere ripristinata il funzionamento di questa stazione. Non si sa come faranno a riparare tutto. E stessa cosa è venuta a Dnipropetrovsk è stato colpito anche una stazione storica idroelettrica Dnipropetrovsk non è la prima volta che viene colpita anche oggi è stata colpita quindi anche oggi ci sono state lì interruzioni di energia elettrica insomma questa è la situazione i russi a quanto pare non hanno finito i missili non hanno finito le bombe tutto quello che a noi ci raccontano tutte le balle che a noi ci raccontano vari propagandisti filonazisti non corrisponde alla realtà i russi hanno ancora parecchio materiale e a quanto pare soprattutto i russi non si lasciano trascinare in questa storia di positivismo dopo la vittoria di Trump tutti speravano che ecco ha vinto Trump adesso subito Putin accetterà tutte le trattative la guerra finisce no non sarà così i russi non sono interessati di accettare nessuna trattativa recente telefonata da parte di Scholz del cancelliere tedesco a Putin molti hanno detto eh ma questo è un buon segno forse adesso Putin si ammorbiderà l'Occidente deve capire che russi non si fidano più dell'Occidente i russi stanno ormai facendo la guerra per la sopravvivenza per loro questa è una guerra contro il quarto Reich contro l'Occidente nazista e loro andranno avanti fino alla vittoria e non ci saranno trattative non ci saranno eh accordi ha vinto Trump ha vinto Harris ai russi eh non ha assolutamente nessuna differenza loro non sono interessati adesso di fermare questo conflitto perché loro capiscono che l'Occidente ha mentito e mentirà sempre le occidentali sono i mentitori seriali quindi nessuno di loro ha mai rispettato la parola data sono indegni e per questo motivo mettersi eh con loro d'accordo è inutile io ovviamente non sto parlando di persone che vivono nell'Occidente delle masse occidentali io sto parlando dei rappresentanti che sono in gran parte tutti ehm assoldati da qualcuno o dalla lobby ebraica o dagli oligarchi occidentali o da entrambi insomma i nostri politici sono più vergognosi in assoluto i nostri politici occidentali basta pensare ai nostri politici italiani questi si mettono a 90 e si vendono come i mignotti a tutti primo che arriva e li infila in tasca un po' di soldini questi subito si vendono vendono il paese vendono il futuro del popolo vendono gli interessi per loro non ha importanza e così funziona l'Occidente i russi capiscono questa cosa per questo motivo assolutamente non sono interessati di mettersi d'accordo più con nessuno loro raggiungeranno i propri interessi facendo l'operazione militare speciale che in realtà è la guerra e questo ciò che succederà e ciò che sta succedendo è il bombardamento di stanotte e l'ennesima conferma di questa intenzione di non fermarsi comunque cari amici con questo io vi saluto come sempre alla fine dei miei video vi invito di informarvi in maniera obiettiva e coerente su ciò che sta succedendo non solo in Ucraina ma anche in generale nel mondo nella geopolitica sul mio canale privato telegram io condivido di solito tutte le informazioni che normalmente vengono nascoste censurate oppure strumentalizzate dal nostro mainstream occidentale corrotto e obsoleto se volete abbonarvi al mio canale privato telegram il link troverete nella descrizione a questo video se volete seguirmi qua su youtube come sempre vi invito ad iscrivervi al mio canale commentare i miei video condividere i miei video con i vostri amici vi ringrazio per la vostra attenzione per le vostre preziosissime opinioni per i vostri commenti e per le vostre donazioni tutto questo è molto importante per me per il mio lavoro su questa piattaforma online vi mando un forte abbraccio fraterno e vi voglio bene e vi voglio bene Grazie.